Mattarella, l'Italia può vincere la sfida della ripartenza, no ai conflitti tra territori e istituzioni, prevale l'unità della Repubblica. Conte, non temo di cadere, è urgente agire subito sull'economia, PD, il confronto va preparato, le opposizioni scettiche sul dialogo. Il mondo contro il razzismo marcia a Washington e negli USA, giustizia per Floyd, dall'Europa all'Asia, le piazze mobilitate. Bologna, scontro tra due auto, quattro vittime, tra queste una bimba di nove anni, secondo grave incidente in pochi giorni. La pandemia accelera nel mondo, impennate in America Latina e India, il Papa, non cantiamo vittoria, rispettiamo le regole. Maltempo, nel veronese grandine allagamenti, danneggiati negozi, mareggiate e piogge sul ponente Ligure, Milano teme una nuova esondazione del Seveso e dell'Ambro. Nel pomeriggio, nuovo peggioramento. Buongiorno al Tg1, l'Italia ha le carte in regola per superare la sfida della ripartenza. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica nel messaggio per i 50 anni dalle prime elezioni nelle regioni.